Festa di avvenire, cambiamo decisamente argomento, proseguono gli appuntamenti a Matera promossi dal quotidiano della CEI con diretta serale su TRM Network. Nella cornice di Piazza Duomo e sullo sfondo della città dei Sassi continua la festa di avvenire organizzata dall'Arcidiocesi di Matera Irsina. Nella terza serata si è parlato di Mediterraneo e il mondo che cambia il fenomeno migratorio attraverso il confronto tra Enrico Letta, già premier e promotore dell'operazione Mare Nostrum, Giulio Tremonti, già ministro dell'economia e Marco Impagliazzo, presidente di Sant'Egidio e promotore dei corridoi umanitari. La immigrazione riguarda la questione della diversità, il diverso, la paura del diverso, fa parte dall'inizio della storia dell'uomo, di una delle caratteristiche principali con le quali la persona tratta il rapporto con gli altri. Quindi io non mi scandalizzo che sia un elemento complicato e divisivo, mi scandalizzo quando chi ha responsabilità ai vari livelli non gestisce come si dovrebbe gestire. L'Europa non ha mai considerato questi temi con serietà. Ricordo nel 2001 abbiamo proposto aiutiamoli a casa loro. L'Europa l'ha sempre rifiutato, ha sempre negato il fenomeno. Va detto che anche l'Italia ha sempre negato tutto questo. L'Europa deve affrontare il problema trovando le soluzioni, come ha detto ieri per esempio il procuratore Gratteri, andando nei paesi da dove queste persone partono, aiutandoli nel paese da dove partono. Certo ci sono alcune situazioni come la Siria, eccetera, dove solo i corridoi umanitari possono mettere in salvo le persone che scappano dalla guerra. Di grande rilievo anche la quarta giornata, quella di giovedì, a Matera per due distinti appuntamenti. Il presidente della CEI, Cardinale Gualtiero Bassetti, con lui, tre numerosi ospiti chiamati a discutere, di famiglia, giovani e lavoro, il sottosegretario di Stato al Miur Vito De Filippo ed il presidente dell'Anci e sindaco di Bari Antonio De Caro. Appuntamento in programma alle 21. Nel pomeriggio invece a partire dalle 18, nella sala degli stemmi del Palazzo Arcivescovile, con il Cardinal Bassetti ed il direttore di Avvenire Marco Tarquinio, l'incontro sulla Chiesa d'Italia. Tutte le serate sono introdotte dall'Arcivescovo di Matera Ersina, Monsignor Antonio Giuseppe Cagliazzo e dal direttore Marco Tarquinio, con una sintesi conclusiva del Vescovo di una delle diocesi della Basilicata. È possibile seguire gli appuntamenti serali in diretta su TRMH24, canale 111 in Basilicata e 16 in Puglia del Digitale Terrestre e 519 di Sky.